Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo questa bellissima maglia, questa è veramente molto bella. Questa è la seconda maglia, o quella che dovrebbe essere la seconda maglia, del Liverpool per la prossima stagione, in edizione Player. Grazie a tutti. La maglia secondo me è veramente molto bella, non è ancora ufficiale, vedremo se sarà quella definitiva. Questa versione gira già da un po' di tempo, a me piace, mi piace questa rifinitura e mi piacciono in generale le maglie scure. Il tessuto poi di Nike, della versione Player, per me è molto bello. Ora il costo l'avete visto, molto basso, spedizione molto buona. Vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità. Per oggi è tutto.